... 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 Allora, quest'era siamo qui a Marina di Gioiosa per un importante avvenimento della Federazione Pallavolo che è quello della consegna dei premi alla società che l'anno scorso ha schierato tutta la squadra Under quindi il grosso impegno da parte del Gioiosa e questo riconoscimento meritato siamo qui con il presidente territoriale anche Domenico Panuccio sarà una giornata di festa, una bella partita tra le squadre giovani E niente, era doveroso da parte mia accompagnare Carmelo in veste di presidente del Comitato Territoriale di Reggio Calabria trattandosi di una squadra del territorio di Reggio è una grande soddisfazione perché la squadra viene premiata perché l'anno scorso ha fatto un campionato di Serie C con tutte le atlete Under la giusta sinergia che ci deve essere tra pallavolo e settore giovanile Il progetto Garanzia Giovani consisteva nella partecipazione nel campionato di Serie C femminile regionale di solo squadre con atlete Under 18 quindi l'unica squadra regionale che ha partecipato a questo progetto l'anno scorso siamo stati noi, cioè la Dipoli Sportiva con la Sensation Profumerie Gioiosi è una bella giornata, una grande soddisfazione per la nostra società e poi un ringraziamento particolare lo facciamo alle due associazioni Comma 3 che sono sempre presenti alle nostre gare e la Special Olympics che vedranno oggi la partita insieme a noi Un ringraziamento speciale va alla Poli Sportiva 90 di Gioiosi Ionica che ci ha voluto invitare per questo pomeriggio speciale con i ragazzi di Comma 3 Queste giornate fanno bene sia a noi operatori che ai ragazzi perché danno quel senso di benessere nello stare insieme a tutti gli altri a tutte queste splendide fanciulle che comunque passeranno delle ore di divertimento con i nostri ragazzi Ci vorrebbero più pomeriggi, più giornate, più attività esterne perché per quanto riguarda le attività interne noi diciamo che tutti i giorni con i nostri ragazzi ci vediamo Beh grazie, veramente grazie a loro, grazie alle famiglie che comunque li accompagnano ovunque per avere veramente un attimo di gioia e di divertimento insieme a tutti Noi siamo i girassoli della Locride, siamo qui oggi a sostenere la Sensation Profumerie che giocherà contro Pizzo, Todo Sport Loro sono i girassoli della Locride, oggi è assente la nostra presidentessa che è la signora Irma Circosta È un giorno di grande divertimento, inclusione e gioia Grazie a tutti, grazie a tutto questo pubblico, ai ragazzi e alle ragazze Fate un saluto, fate un saluto Ciao Grazie a tutti